Questo progetto di rinforzamento dell'infrastruttura è un progetto che si sta parlando, si sta coltivando da tempo, è chiaro che adesso è arrivato il momento giusto per farlo perché su questo tipo di navi ci sarà tanto da lavorare, quindi aumentare la produttività, aumentare la possibilità di lavorare navi più grandi è fondamentale per il cantiere e fondamentale per fincantieri, quindi penso che non ci sia un'istituzione, un pezzo di territorio o qualcuno che non possa essere d'accordo. Chiaro che poi la braura è far accadere le cose, in questo paese far accadere le cose è un esercizio di concertazione importante, però io vedo un allineamento di interessi, forza, convinzione e quindi è il momento anche in cui bisogna crederci alla cosa, noi ci crediamo, spingiamo, siamo qui oggi, stamattina anche per questo. Lei si è insediato da poco più di un mese, che situazioni ha trovato, quali sono le prospettive per il futuro? Allora, è un'azienda come tutte le aziende che hanno delle radici profonde in un'industria, che ha un valore tecnico inestimabile, quindi ha delle competenze antiche e le percepisci e le vedi. Dopo le competenze la prima cosa che noti sono le persone, hanno un entusiasmo, una luce negli occhi, un coraggio, un attaccamento all'azienda senza retorica. Ecco, il passato, le persone sono quelle che ti servono per costruire il futuro. Pensate di specializzare questo cantiere sulla difesa, sul civile o lasciarlo? No, la bravura di questo cantiere, secondo me, secondo noi, è la polivalenza. Deve essere un cantiere polivalente, perché se sei polivalente, se sei su un ciclo, se sei sull'anticiclo, sei sempre al posto giusto. Se invece sei troppo verticale, segui il ciclo di quella specialità. Quindi penso che la grande opportunità per Castellammare è stato proprio quello di entrare anche nel militare e dimostrare che è questa polivalenza, perché probabilmente è quello che nel tempo ti garantisce più stabilità di carico di lavoro.